Gli insetti saranno il cibo del futuro, dicevano, e a quanto pare questo futuro sembra essere arrivato. Dal 1 gennaio del 2018, infatti, è entrata in vigore la nuova normativa sul Novel Food, che prevede la vendita e il commercio nei paesi membri dell'Unione Europea di insetti o di alimenti che li contengono. Per introdurli anche in Italia si partirà proprio da alimenti secchi, barrette energetiche e farine alimentari. Una ricerca dell'Università di Foggia, condotta dal Dipartimento di Agraria con la professoressa Carla Severini, si è rivelata pioniera della nuova alimentazione e ha elaborato già dallo scorso luglio una farina a base di larve edibili di Tenebrio Molitor, essiccate e sminuzzate unite a un mix di farine tradizionali. Il risultato è uno snack dall'alto contenuto proteico, biscotti che non tradiscono la presenza di insetti. Il segreto per abbattere il rifiuto ideologico e culturale del mangiare larve e vermi, infatti, è proprio farlo senza averne la sensazione. Il sapore, assicurano i ricercatori, è identico ai biscotti che siamo abituati a mangiare, forse con un retrogusto di mandorle amare in più. Un'altra innovazione che abbiamo sperimentato, ha spiegato al TG Blue la professoressa Severini, è l'utilizzo della stampante 3D, una nuova tecnologia che permette di creare forme diverse e accattivanti e che rispondano alla necessità di particolari categorie, come anziani con difficoltà di masticazione o bambini in fase di crescita. Le abitudini alimentari cambiano rapidamente e nel caso dell'alimentazione a base di insetti non si tratta di una moda, ma di una vera e propria necessità. Le risorse del pianeta stanno terminando, allevare insetti costa poco, sono meno impattanti per l'ambiente e sono molto più proteici della carne. E se fino a 30 anni fa sarebbe stato impensabile trovare sulle nostre tavole sushi e sashimi, chissà che in un prossimo futuro non ci ritroveremo a servire mille piedi e cavallette.